Alessandro Vinciarelli, Capitano del Coro, appena conclusa la vostra prima prova, poi vedremo in futuro le vostre decisioni. Mandate innanzitutto Alessandro. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti all'amministrazione comunale, a Paolo Tondi, a Mauro Trapassi per l'ottimo lavoro. Penso che è una delle migliori piste che si sono viste da quando si fa la pista, diciamo, che non è permanente a Pian Castagnale. Questa terra rossa, questo lapillo, come lo chiamiamo da queste parti. Un ottimo lavoro, complimenti davvero a tutti e tre. Andiamo alla prima prova, la prima volta che viene a Pian Castagnaio, 8 anni. Cavallo esperto, ho fatto pali parecchie in Sardegna, quest'anno è stato impegnato in provincia, nei vari pali e nelle vari corse in provincia, comunque sono abbastanza soddisfatti. Ecco, non ho fatto un tempo a riprendere, c'è stato un disguido sull'orario da parte mia, come è andato? Sì, è andato bene, ha fatto... Ho visto la mossa, è stata provata la mossa, però in precedenza penso... In precedenza ha fatto quattro giri con una bella andatura. Bene. Ultimo vaio, ultimo vincitore della costa del Borgo, ricordiamo, entrambi in scuderia Walter Pucceddo. Allora, conosci bene la pista, ho visto anche nella prova. Allora, questo ha dimostrato che la pista si adatta perfettamente. Vediamo, adesso valuteremo, riproveremo anche sabato. Ecco. Abbiamo da provare, va bene, tanto meno di nascondere Violenta da Clodia. Violenta da Clodia, cioè un nome che è da tempo... Sì, sì. Come del resto Cavino Sanna. Come del resto Cavino Sanna è un fantino. Ecco, la scelta, Cavino ha bisogno anche quest'anno di una grande risposta a questa stagione, che deve prendere connotati importanti per lui. Sì, però ecco, noi la fiducia in Cavino ce l'abbiamo tutti.